Resistance, tonificazione, parte superiore, corpo libero e pesetti. Un workout perfetto per superare i tuoi limiti e misurare la tua resistenza. Fai questo workout solo se hai un'ottima preparazione fisica. Iniziamo! Ok, iniziamo. Doppia camminata laterale con bicipiti senza pesi. Andiamo ad ascaldare tutta la parte alta e tutta la parte bassa prima di iniziare questo super workout. Vamos! Inizio con la respirazione, naso, bocca. Esercizio successivo, passo laterale più apertura braccia, gomiti fissi. 3, 2, 1. Sempre passo laterale. Apro e chiudo le braccia, i gomiti fissi, testa dritta. Scaldiamo bene i deltoidi, scaldiamo bene i bicipiti, le braccia, tutta la parte bassa del corpo. Massima attivazione prima di iniziare l'allenamento strong. 5, 4, 3, 2, 1. Extra rotazione delle spalle, gomiti aderenti al corpo, sposto la mano lateralmente, i gomiti sono fermi, alterno braccio destro e braccio sinistro. Andiamo a scaldare bene la spalla, la cuffia del rotatore, fondamentale per il lavoro che andremo a fare. Respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. Circonduzione braccio in avanti. Andiamo a lavorare prima da una parte. Scaldiamo bene tutta la spalla, tutto il braccio, tutta la parte alta. Ancora qualche secondo e cambiamo braccio. 5, 4, 3, 2, 1. Circonduzione braccio in avanti dall'altra parte. Respirazione. Inspiro col naso, espiro con la bocca. Movimento ampio, continuato. Attiviamo tutta la parte alta. Esercizio successivo. Discesa frontale su gamba destra e sinistra. 3, 2, 1. Vai. Discesa frontale, destra e sinistra. Senza forzare il movimento. Scaldiamo anche la parte bassa. Mantengo sempre attiva la respirazione su ogni esercizio. Non rimango mai in apnea. Ancora 10 secondi. Scendo a destra e scendo a sinistra. Senza forzare il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Avviciniamo il nostro tappettino. Piegamenti in tablet top position. Facilitato. Vai. Ginocchi a terra. Scendo lentamente. Addome contratto. Mani in linea con il petto. Testa dritta. Non inarcare la schiena. Scendo. Blocco e salgo lentamente. Respiro. Sempre in respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. T plank alternato. Posizione del plank. Sposto il peso e vado in T plank. Sposto il peso e cambio lato. In appoggio sul braccio destro e in appoggio sul braccio sinistro. T plank da un lato. T plank dall'altro. Vai. Sposto il peso. T plank. Cambio lato. T plank. Respiro. Controllo il movimento. Addome contratto. Respirazione attiva. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Deep da seduto. Andiamo ad attivare i tricipiti. 3, 2, 1. Deep da seduto. Mani dietro la schiena. Piega i gomiti e sfiora a terra con i glutei. Non aprire i gomiti nell'esecuzione. Massima attivazione del tricipite. Ancora. Movimento lento. Controllato. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarichiamo. Ci alziamo in piedi. Ripartiamo con bicipiti frontali. Doppia salita. Attiviamo le braccia. 3, 2, 1. Vai. Bicipiti. Doppia salita frontale. Piego leggermente le gambe. Addome contratto. Testa dritta. Gomiti vicino al corpo. Salgo insieme. E scendo insieme. Respiro. 3, 2, 1. Cambio. Bicipiti ampi. Saliamo e scendiamo lateralmente. I gomiti rimangono aderenti ai fianchi. Andiamo ad attivare ulteriormente i bicipiti. Respiro. Gambe leggermente piegate. 3, 2, 1. Recupero attivo. Esercizio successivo. Diamond cobra push up. Attenzione all'esercizio a video. 3, 2, 1. Pollici e indici delle mani in contatto. Scendi e sali. Il bacino resta in appoggio a terra. Il movimento è lento. Attiviamo tricipiti. Spalla frontale e petto. Ancora 10 secondi. Esercizio successivo. Plank. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Vado in posizione del plank. Braccia tese. In linea con le spalle. Addome contratto. Il corpo rimane in linea senza accedere al bacino. Rimani in posizione e respira. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Respiro. Ripartiamo con il cobra push up. 5, 4, 3, 2, 1. Mani ai lati del petto. Scendo e salgo. Il bacino resta in appoggio a terra. Il movimento è controllato. La testa dritta. Respiro. Attiviamo braccia e petto. Bacino che resta in appoggio a terra. Respirazione. Salgo e scendo. Movimento controllato. Senza forzare. Ancora 10 secondi. Fino alla fine. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Recupero attivo. Respiro. Ripartiamo con bicipiti a martello. Andiamo a recuperare i nostri pesetti. 3, 2, 1. Vai. Bicipiti a martello. Alterniamo lato destro e lato sinistro. Piego leggermente le gambe. Testa dritta. Sempre respirazione naso e bocca. Esercizio successivo. Carl a martello. Gambe unite alternato. Tra 3, 2, 1. Vai. Cambio. Gambe unite. Bicipiti a martello alternati. Le gambe leggermente piegate per non scaricare il lavoro sulla schiena. I gomiti rimangono aderenti ai fianchi. Porto il peso verso la spalla. Ancora 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Ripartiamo con alzate in elevazione. Attiviamo spalle e trapezzi. 3, 2, 1. Solleva i pesi lateralmente e scendi. Palmi frontali. Gambe leggermente piegate. E schiena dritta. Respirazione. Il movimento è controllato. Per attivare al massimo le spalle. 5, 4, 3, 2, 1. E passo in spinta in alto. Vai. Spinta in alto. Distendo completamente le braccia in alto. Vai. Vai. Ancora 10 secondi. Massima attivazione delle spalle. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Rematore. Un braccio da terra. 5, 4, 3, 2, 1. Dalla posizione di quadrupedia salgo in isometria. Un braccio appoggio a terra. Le ginocchia rimangono sollevate. Fletto ed estendo il braccio. Testa dritta. Addome contratto. Controllo la posizione di isometria. Fletto e estendo il braccio per eseguire il rematore. Respirazione attiva. 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Passiamo dall'altra parte. Sempre stesso esercizio. Rematore. Un braccio da terra. 3, 2, 1. Vai. Salgo in posizione. Mantengo la posizione. Ginocchia sollevate. Addome contratto. Testa dritta. E lavoro in rematore. Respirazione. Resisto. Fino alla fine. Massima attivazione dell'addome. Braccia. Gambe. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Scarico. Ripartiamo con push up. Ginocchia a terra. 3, 2, 1. Vai. Push up. Ginocchia a terra. Le ginocchia a terra. Testa dritta. Mani in linea con il petto. Addome contratto. Non inarco la schiena. Lavoro solo sulle braccia per attivare pettorali. Bicipite, tricipiti. Vai. Ancora 15 secondi. Non ti fermare. Respira. Spingi. Cerchiamo di migliorare sempre di più sul push up. Sempre più reattività. Forza. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Riprendo fiato. Esercizio successivo. Croci da terra in sospensione. Andiamo a prendere i pesetti e andiamo a lavorare su petto e braccia. 3, 2, 1. Stacco la prima parte della schiena. Apro e chiudo. È il movimento da eseguire. Respirazione attiva. addome contratto. Stacco la prima parte della schiena. Senza forzare. Apro e chiudo. Ancora qualche secondo. Ancora 3, 2, 1. Cambio assetto. Da apro e chiudo vado in spinta. Respiro. Testa dritta. Addome contratto. Scendo e salgo. Respirazione. Ancora 10 secondi. Resisti fino alla fine. 5, 4, 3, 2, 1. Scarico. Ripartiamo con Arnold Press facilitato. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Alzate sopra la testa e ritorno ruotando le braccia. Il movimento è continuo, fluido. Gambe leggermente piegate. Testa dritta. Respiro. Resisti fino alla fine. Massima attivazione di spalle e trapezzi. Vai. Alzate sopra la testa e torno ruotando le braccia. Movimento è continuo. Resisti fino alla fine. Ancora 15 secondi. Esercizio successivo. Carl a martello gambe unite. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Gambe unite. Bicipiti a martello doppia salita. Gambe leggermente piegate. Testa dritta. Respiro. Portiamo i pesetti verso la spalla frontale. Ancora 20 secondi. Bicipiti a martello doppia salita. Andiamo a rossodare e tonificare le braccia. Ancora 10 secondi e cambiamo in bicipiti frontali doppia salita. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Doppia salita. Addome contratto. Testa dritta. Piego leggermente le gambe. Salgo insieme e distendo completamente le braccia. Ancora. Resisti fino alla fine. Non ti fermare. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Resta su e piccoli pulse. Rimani in posizione. È importante l'addome contratto. Le gambe leggermente piegate. Gomiti uniti al corpo. Testa dritta. Resisti. E resta in pulse. 3, 2, 1. Recuperativo. Ottimo lavoro. Scarichiamo il lavoro. 10 secondi. Ripartiamo con push up monopodalico. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Vado col push up. Attenzione al movimento. Scendo. Alzo una gamba. Scendo. Alzo l'altra gamba. Nel momento di discesa del push up. Salgo con una gamba. Testa dritta. Respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. Push up ginocchio a terra. Vai. Parti subito. Butta fuori tutte le energie. Resisti. Ancora 3, 2, 1. Ottimo lavoro. Recuperativo. Scarica il lavoro sulle braccia. 10 secondi. E ripartiamo con plank to push up. Massima attivazione delle braccia. Braccia toniche. 3, 2, 1. Plank su gomiti. Sali. Push up e scendi. Plank sui gomiti. Sali. Push up e scendi. Respiro. Addome contratto. Movimento è lento. Controllato. Ancora 10 secondi. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Scarico il lavoro sulle braccia. Respiro. 10 secondi. Ripartiamo con tip plank alternato. Più push up. 3, 2, 1. Vamos. Tip plank a destra e sinistra. E poi push up. Vai. Addome contratto. Tip plank da una parte. Tip plank dall'altra. Posizione. E push up. L'esercizio è tecnico. Non è veloce. Controlla. Controlla l'addome. Controlla il movimento. Tip plank a destra. Tip plank a sinistra. E poi il push up. 3, 2, 1. Recuperativo. Respiro. Scarico il lavoro sulle braccia. Ripartiamo da in piedi. con le alzate laterali su un braccio. 3, 2, 1. Vai. Braccio semiteso. Sollevo lateralmente il manubrio. L'altra mano appoggia sul fianco opposto. Gambe piegate. Addome contratto. Testa dritta. Respiro. Salgo piano. E scendo piano. Esercizio successivo. Alzate frontali su un braccio. 3, 2, 1. Sempre lo stesso braccio. Respiro. Addome contratto. Mano sul fianco. Piego leggermente le gambe. Alzata frontale. Lavoriamo sullo stesso braccio. Massima attivazione di spalle e trapezio. Vai. Ancora 10 secondi. E facciamo un breve recupero. 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo lavoro. Recuperativo. Scarica il lavoro sul braccio. Muove un pochino il braccio per scaricare. E ripartiamo dall'altra parte. Alzate laterali su un braccio. 3, 2, 1. 1. Vai. Piego leggermente le gambe. Il braccio semi teso che lavora. L'altra mano sul fianco. Testa dritta. Salgo e scendo. Respirazione sempre attiva. Gambe leggermente piegate. 3, 2, 1. Ancora 10 secondi. E passiamo all'alzata frontale. Sempre sullo stesso braccio. 4, 3, 2, 1. Vai. Alzata frontale. Respiro. Testa dritta. Gambe leggermente piegate. Utilizziamo un pesetto che ci permette di arrivare alla fine di ogni esercizio lavorando ma che non ci va a sporcare la tecnica. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Scarichiamo il lavoro. Ripartiamo con alzate laterali più frontali su un braccio. 3, 2, 1. Posizione. Gambe leggermente piegate. Apertura laterale e apertura frontale. Apertura laterale e apertura frontale. Respiro. Addome contratto. L'altra mano sul fianco. Cerco di mantenere la testa e il collo dritto. Apertura frontale e apertura laterale. Resisto fino all'ultimo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dall'altra parte vai. Parto subito senza recupero attivo. Apertura laterale e alzata frontale. Apertura laterale e alzata frontale. Ancora. Respiro. Gambe leggermente piegate. Testa dritta. Apertura laterale e alzata frontale. Respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico un pochino il lavoro sulle spalle. Ripartiamo con plank. Sollevamento braccio alternato da terra. 3, 2, 1. Vai. Sollevo un braccio e poi sollevo l'altro. Sollevo e sollevo. Addome contratto. Testa dritta. Respiro. Sollevamento delle braccia alternate in plank. Respiro. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Prendo fiato. Scarico il lavoro sulle spalle. Ripartiamo con push up. Ginocchia a terra. Tra 3, 2, 1. Ginocchia a terra. Mani in linea con il petto. Scendo e salgo. Addome contratto. Testa dritta. Resisto fino alla fine. Massima attivazione delle braccia e del pettorale. Ancora qualche secondo. Ancora 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro sulle braccia. Respiro. Ripartiamo con plank. Tocco punta. Più push up. Vamos. Resisti. 3, 2, 1. Vai. Posizione del plank. Tocco la punta del piede. Tocco la punta del piede. E scendo in push up. Tocco la punta del piede. Tocco la punta del piede. E scendo in push up. Vai. Ancora. Resisti. Fino alla fine. Ancora 10 secondi. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Posizione. Gambe leggermente piegate. Braccia a 90 gradi. Testa sempre dritta. Mi raccomando. Alzate laterali. Braccia a 90 gradi. Salgo. E scendo. 5, 4, 3, 2, 1. Passiamo a bicipiti alternati. Vai. Sempre gambe leggermente piegate. Testa dritta. Bicipiti alternati. Prima un lato. E poi l'altro. Attiviamo le braccia. Mantengo la respirazione per non andare in affanno. Ancora 10 secondi. E facciamo un recupero attivo. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Recupero attivo. Ripartiamo con bicipite singolo. In discesa fino al gomito. 3, 2, 1. Vai. Singolo. Solo da una parte. E poi dall'altra. La discesa è fino al gomito. Scendo, gomito, salgo. Scendo, gomito, salgo. Alterno il movimento. A destra e a sinistra. 5, 4, 3, 2, 1. Bicipite salita fino al gomito. Il contrario. Scendo. E salgo fino al gomito. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Sentirai un forte lavoro su braccia e spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Bicipite a martello senza rotazione. Gambe leggermente piegate. Addome contratto. Testa dritta. Porto il peso verso la spalla. Respiro. Esercizio successivo. Carl a martello. Gambe unite. 3, 2, 1. Gambe unite. Bicipite a martello. Doppia salita. Gambe leggermente piegate. Testa dritta. Contrai l'addome. Bicipite a martello. Doppia salita. Saliamo. E portiamo i manubri alle spalle. Ancora 10 secondi. Resisti fino alla fine. 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo lavoro. Scarichiamo. Recupero attivo. Ripartiamo con i dip da seduto. Andiamo a lavorare sui tricipiti. 3, 2, 1. Vai. Mani dietro la schiena. piega i gomiti e sfiora a terra con i glutei. Non aprile i gomiti per avere la massima attivazione dei tricipiti. Respiro. Testa dritta. Mantieni il ritmo. Non ti fermare. Siamo arrivati a 100 calorie. Vamos! Continuiamo così. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Schiena a terra. Ripartiamo con tricipiti da terra. Gomiti fissi. Prendiamo i pesetti. 3, 2, 1. Gomiti fissi in blocco. Lavoro sugli avambracci. Attiviamo i tricipiti. Addome contratto. Gambe in sicurezza. Testa dritta. Respiro. Non mi fermo. Ancora 20 secondi. 15 secondi. Attiviamo le braccia. Massimo lavoro sulle braccia. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Recupero attivo. Respiriamo. Ottimo lavoro. È un allenamento di forte sollecitazione per spalle, braccia e pettorali. Ripartiamo con slow push up. Forza. 3, 2, 1. Push up lento. Sia in discesa sia in salita. La testa è dritta. Il movimento è lento e controllato. È fondamentale. che l'addome rimanga contratto. Non scendo col bacino. Discesa lenta. Salita lenta. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ottimo lavoro. Recupero attivo. Respiro. Cobra push up. È il prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Mani ai lati del petto. Scendi e sali lentamente. Il bacino resta in appoggio a terra. Continua a respirare. Mi raccomando le mani ai lati del petto. Movimento controllato. Il bacino resta in appoggio a terra. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarico il lavoro. Respiro. Ripartiamo con plank più sollevamento alternato. Più push up. 3, 2, 1. Vai. Sollevamento del braccio. Sollevamento del braccio. Push up. E salgo. Sollevamento del braccio. Sollevamento del braccio. Push up. E salgo. Alterna bene i tre movimenti. Addome contratto. Cerca di mantenere il corpo in linea. Respirazione attiva. Ancora 10 secondi. E recuperiamo. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Scarica il lavoro. Recuperiamo. Esercizio successivo. Croci da terra in sospensione. Prendiamo i pesetti. Schiena ben aderente a terra. 3, 2, 1. Croci da terra in sospensione. Apro e chiudo. Addome contratto. Gambe semipiegate. Croci da terra in sospensione. Vai. Movimento controllato. Attiviamo fettorali e braccia. Ancora 10 secondi. E cambiamo in spinte da terra in sospensione. 3, 2, 1. Vai. Passiamo da apertura in sospensione. Apertura in sospensione. Respiro. Mantengo l'addome contratto. Testa dritta. Stacco la testa e la prima parte della schiena da terra. Rimango in sospensione. E lavoro in spinta. Vai. Ancora qualche secondo. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ripartiamo con T-plank alternato. 3, 2, 1. Vado in spostamento laterale prima da una parte e poi dall'altra. T-plank da un lato. T-plank dall'altro. Faccio ruotare le punte dei piedi. Vado in posizione e salgo. Ruoto, posizione e salgo. Mantengo la respirazione naso e bocca operativa. Esercizio successivo. Stretching spalla da terra. Ancora 10 secondi. Resisti. 5, 4, 3, 2. 1. Ok. Ottimo lavoro. Braccio teso. Lo portiamo al petto. Premo delicatamente con l'altra mano all'altezza del gomito. Mantengo lo stretching senza forzare. 3, 2, 1. Affero il gomito dello stesso braccio. Porto il braccio indietro con la mano. Mantengo lo stretching. Senza forzare. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching spalla. Braccio teso. Lo porto al petto. Premo delicatamente con l'altra mano all'altezza del gomito. Spalle basse. Rimango in posizione. E respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Affero il gomito dello stesso braccio. Porto il braccio dietro alla schiena e mantengo lo stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Lascia piano la posizione. Esercizio successivo. Torsione del tronco in quadrupedia. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Glutei alti e braccia tese. Fai passare il braccio destro sotto il corpo e appoggialo a terra. Mantieni la posizione senza forzare. 5, 4, 3, 2, 1. Fai passare il braccio sinistro sotto il corpo. Appoggialo a terra. Mantieni la posizione senza forzare il movimento. Respira e mantieni lo stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Scarico colonna da terra. Andiamo a scaricare il lavoro della schiena. Dalla posizione porta le mani ai lati dei piedi. Fronte a terra. Rimango in posizione. Scarico, respiro e mi rilasso. 5, 4, 3, 2, 1. E risalgo. Il tuo super allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos! Mamma mia! Oh mio! Allora, ragazzi, 133 non male per aver allenato... Sì!